Ma non esiste il tema di autorizzazioni, però ha anche precisato che il tema di autorizzazioni non esiste, nel senso che il problema è che la competenza per le decisioni è di Padoan. Ora Padoan mi pare abbia detto esplicitamente che nessuno gli ha fatto pressioni per decidere in un senso o nell'altro, quindi io francamente non riesco a capire quale sia tutta la grande novità nel fatto che uno sappia che i ministri si occupano di vari argomenti, anche non di loro competenza perché fa parte del Consiglio dei Ministri occuparsi di argomenti complessivamente, quindi il Ministro Padoan ha semplicemente sottolineato una cosa che è ovvia, cioè che non c'è bisogno e non ci sono state nessuna autorizzazione a occuparsi di una cosa o dell'altra. Mi pare che quello di cui si sta discutendo in quella Commissione sia se il sistema bancario è stato o no, al di là degli incontri personali di vari ministri, io me ne sono occupato come ho detto sempre pubblicamente avendo la delega dal Presidente del Consiglio su tutte le materie e ovviamente mi occupavo di tutti i dossier, non di uno in particolare, ma anche a tanti altri ministri si occupano di dossier, di cui magari della Siracusa Gela si occupano ministri siciliani, avete capito? Non è che questo per me è un'offesa alla mia competenza. Si è parlato di ingerenza. Ma no, ma di ingerenza mi pare che nessuno, su questo punto però attenzione, la Commissione Banche si è costituita per fare luce e per proteggere i risparmiatori da pericoli futuri e per rafforzare i sistemi di vigilanza. Questo è il compito, capire se... C'è il compito esercitato? Io come tanti altri colleghi abbiamo esercitato senza fare nessuna pressione su nessuno, non risulta nessuna pressione né da parte mia né da parte della Boschi, i fatti sono questi, poi le chiacchiere se ne possono fare milioni, ma fino ad oggi non è emersa nessuna pressione in una direzione o nell'altra. Il fatto di informarsi su alcune questioni, farci un'opinione e poi prendere delle decisioni, questo mi pare che sia lecito e legittimo, no? Facciamo una premessa, ogni Stato dovrebbe avere una sua zona di soccorso. La Libia purtroppo per la situazione interna non l'ha avuta in questi anni, la ricostruzione di una propria zona di competenza delle autorità libiche per il soccorso è uno degli obiettivi che abbiamo in un progetto europeo, stiamo cercando di aiutare appunto la ricostruzione della zona di ricerca e soccorso libica e questo anche addestrando la Guardia Costiera alipica, ovviamente garantendo che tutto questo avvenga nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei diritti delle persone. Ma cosa sarà nel 2020? Io credo che queste elezioni si giocheranno sulla credibilità delle politiche che vengono fatte, perché molti in queste elezioni prometteranno futuri radiosi. Chi è stato già messo alla prova ha dimostrato di non essere stato in grado di garantire a questo Paese uno sviluppo adeguato. Sono state persi centinaia di migliaia di posti di lavoro, il sistema produttivo, il sistema del mondo del lavoro, il sistema bancario, il sistema di organizzazione delle politiche migratorie. hanno raggiunto dei livelli di non efficienza piuttosto elevati e i cittadini se ne sono molto accorti, quindi al di là delle promesse che è stato messo alla prova ha dimostrato di non essere in grado poi di costruirlo questo futuro, oltre che di prometterlo. Io credo che le nostre esperienze di questi cinque anni abbia garantito al Paese stabilità e sviluppo economico e certamente abbiamo fatto delle cose importanti, molte altre restano da fare, ma noi abbiamo la credibilità su tanti settori, su tante politiche per dire agli italiani guardate che abbiamo cominciato un percorso e questo percorso sta portando il Paese fuori dalla crisi ed è un percorso ovviamente ancora lungo, quindi si può fare molto di più e molto meglio, ma credo che noi abbiamo dimostrato di avere qualche carta in più di altri, di competenza e di passione civile per poter davvero fare passo dopo passo dei progressi. Quindi la campagna elettorale si giocherà sulla credibilità, credo che noi abbiamo le carte per potercela giocare. Sì, sono calati del 36%, gli sbarchi però sono certamente sbarchi importanti ancora, ma sono calati in maniera significativa. Come sapete questo è frutto di un lavoro anche fatto di accordi con le autorità libiche, come è stato ampiamente già ricordato dal Presidente Gentiloni, noi vogliamo che vi sia una piena operatività di tutti i Paesi del Mediterraneo nel soccorrere e di tutti i Paesi europei nell'accogliere. L'Italia ha fatto ampiamente la sua parte, come dicono i numeri la Guardia Costiera è impegnata in operazioni di soccorso, nel coordinamento delle operazioni di soccorso veramente in maniera molto molto intensa, anche quest'anno nonostante il calo degli sbarchi, ma abbiamo ancora da risolvere, come sapete, il problema del ricollocamento per la resistenza di alcuni Paesi europei e quindi l'Europa deve dimostrare di essere una grande civiltà anche risolvendo il tema del ricollocamento dei migranti e dell'accoglienza dignitosa a coloro che hanno il diritto di asilo e di ospitalità. Quindi c'è ancora tanta strada da fare, però intanto ringraziamo questi uomini e queste donne impegnati in operazioni di soccorso, la Guardia Costiera che le coordina, ma anche le ONG, i mercantili, le navi militari che sono impegnate quotidianamente. Ma cosa c'entrano repressioni? Peggio mi sento. I ministri del governo Renzi non potevano chiedere informazioni sensibili sulle materie di vigilanza al governatore della Banca d'Italia. Per cui il governatore ci ha anche raccontato che quando Renzi gli ha chiesto informazioni su banche Etruria, sull'industria ORAF e così via, lui ha risposto con un sorriso. Il problema non sono le pressioni, il problema è che il governatore della Banca d'Italia sulle materie di vigilanza può solo conferire col ministro dell'economia e delle finanze, ex articolo 7 del testo unico bancario. E di fatti il governatore della Banca d'Italia non ha detto nulla a nessuno di chi gli chiedeva informazioni sensibili su questi temi. Le pressioni sono un'altra cosa, peggio mi sento se ci fossero state pressioni. Ecco ma questa difesa è una difesa ridicola di dilettanti allo sbaraglio, buoni a nulla e capaci di tutto. Il governatore è chiaro di tutto, noi ci siamo occupati di tutti i territori. Sì, contento lui. Allora il presidente del consiglio, afface il presidente del consiglio, le materie, ripeto, di vigilanza competono solo al governatore della Banca d'Italia e al ministro dell'economia e delle finanze. Se Renzi, prima di fare il presidente del consiglio, non si è studiato la legge, adesso ha tutto il tempo per studiarsi. Un elemento di grande interesse da parte del governatore. Ha descritto i membri del governo, Renzi in testa, come dei direttanti allo sbaraglio che richiedevano informazioni sui contenuti di vigilanza di Banca d'Italia, non sapendo che per legge il governatore della Banca d'Italia, articolo 7 del testo unico bancario, può solo riferire dei temi di vigilanza al ministro dell'economia e delle finanze. E questi chiedevano sul matrimonio con popolari di Vicenza, cioè informazioni sensibili sui contenuti della vigilanza della Banca d'Italia, sui quali il governatore deve mantenere assolutamente il segreto e può conferire solo con il ministero dell'economia e delle finanze in ragione della legge, Articolo 7, testo unico bancario. Che dire di più? Direttanti allo sbaraglio, al governo Renzi, al di là dei nomi, al di là di questo o quel ministro, che hanno solo prodotto il caos in una fase molto delicata in cui ci voleva responsabilità, competenza e testa fredda. Evidentemente questi signori a testa fredda non hanno mai avuto. Ma noi non ragioniamo così. Spero che questa cosa faccia definitivamente giustizia di tante strumentalizzazioni che ci sono state e ci consenta di affrontare anche mediaticamente quello che davvero sta emergendo in questa commissione, che credo sia utile per tutti. Non sono toni più morbidi. Io non rinvengo nulla di più morbido. Ha confermato. È chiaro che nel corso dell'audizione non si può dire quello che poi è la politica a dover dire. Nel senso che bisogna raccontare. Lui ha raccontato degli episodi, dopodiché è compito proprio della politica di fare chiarezza. Perché il fatto di incontrare in quella veste il governatore o chi per esso, comunque delle autorità di vigilanza, per parlare di una banca gestita dal padre, anche semplicemente toccare l'argomento significa in qualche modo fare pressione. Comunque la Ministra Boschi ha mentito a più livelli su questa questione. Ma guardi, questo è quello che ha raccontato interpretando comunque il fatto che è stato confermato che l'allora Ministra Boschi girava tra le vigilanze per parlare di banca Etruria. Ora, se non sono pressioni queste, quali sono le pressioni? In che veste? Il Ministro Padoan ieri ha smentito ufficialmente di sapere qualcosa o di delegare l'allora Ministra delle Riforme Costituzionali a fare qualcosa relativo al suo ministero, cioè quello dell'economia. Quindi era un'invasione di campo solo ed esclusivamente perché ci sono dei conflitti di interesse. Le ragioni di questa mia e di questa nostra attenzione sono evidenti. Una gran parte dei cittadini, una parte consistente, direi, dei cittadini vive e lavora in periferia. E chi vive e lavora in periferia normalmente è anche più giovane. Quindi i nostri ragazzi e le nostre ragazze vivono in questi quartieri. Ecco, allora è in questi quartieri, in queste periferie che si tocca anche con mano, che vuol dire la crescita delle diseguaglianze. C'è il volto della diseguaglianza in queste periferie. Che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire meno lavoro, meno lavoro per i ragazzi e per le ragazze. Vuol dire più alto tasso di abbandono scolastico, vuol dire maggiore carenza dei servizi e vuol dire anche condizioni di degrado e forte disagio sociale. L'Istat, saluto il Presidente che vedo qui, mi fa piacere che sia con noi, nel 2016, ci dice che il 30% delle persone residenti in Italia è a rischio povertà o esclusione sociale. E la gran parte di queste persone a rischio vivono la gran parte nelle periferie. Ecco, e allora non è esagerato dire che il Paese non riparterà veramente se non si andrà a prosciugare questa vasta area di disagio sociale. Se uno vuole avere un'idea della sicurezza, che sia una sicurezza capace di entrare dentro i gatti, angli di un territorio, deve avere un modello che sia di riferimento nazionale. Questo aspetta naturalmente al Ministro dell'Interno, che tecnicamente è autorità nazionale di pubblica sicurezza. E tuttavia per rendere operativo bisogna calarlo nel territorio. E qui c'è il punto che io considero assolutamente fondamentale di principio. E c'è che una moderna idea della sicurezza non può non nascere se non da un incontro, da una progettualità positiva, da un'alleanza strategica tra il Governo nazionale, il Ministero dell'Interno e i sindaci che lavorano sul territorio. E quindi un'idea di sicurezza che sia capace di entrare su territori. Questo vale per la lotta contro il terrorismo. Questo vale, ha maggior ragione, per garantire la sicurezza delle periferie. Signor Presidente, come ha ricordato alla cerimonia del ventaglio dello scorso luglio, siamo nella fase conclusiva della legislatura e le elezioni sono oramai vicine. Il suo auspicio all'impegno per un'ampia partecipazione dei cittadini al voto e per un confronto elettorale svolto su programmi e proposte seriamente approfondite, sono sue parole, è una sollecitazione che siamo chiamati tutti a raccogliere. Fra qualche mese avrà inizio la diciottesima legislatura. Noi tutti e ogni cittadina e ogni cittadino del nostro Paese sappiamo di poter contare sulla sua salda guida e riponiamo in lei assoluta fiducia. Con questi profondi sentimenti di stima e gratitudine per l'autorevolezza con la quale incarna i valori della Costituzione e rappresenta l'unità del Paese, Signor Presidente, a nome di tutti, le rinnovo gli auguri più sinceri. Grazie. Signor Presidente, quest'anno il Parlamento ha celebrato alla sua presenza il sessantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma. L'Unione Europea ha raggiunto importanti traguardi ma permangono alcuni elementi di criticità nelle relazioni politiche, nella stabilità sociale, nell'effettività dei diritti e dello Stato di diritto. Sappiamo che non è un momento facile. I fenomeni sistemici che viviamo, la crisi economica del lavoro, le migrazioni, le tensioni geopolitiche alle nostre frontiere meridionali e orientali, hanno avuto impatti diversi sui Paesi europei, generando risposte politiche divisive e sentimenti di sfiducia nei cittadini. Nonostante queste contingenze e la dolorosa decisione britannica di lasciare l'Unione, il vertice governativo di Roma ha segnato un momento di ripartenza all'insegna della fiducia e dell'impegno per un salto di qualità nel processo di integrazione. Nel tumultuoso scenario globale l'Unione è indispensabile e in questi mesi ha compiuto dei passi decisivi l'istituzione della Procura europea, l'adozione del pilastro europeo dei diritti sociali e l'avvio della cooperazione strutturata permanente in materia di sicurezza e difesa. L'Europa vive nella cultura profondamente europea delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi anche grazie ai programmi di Erasmus e alle iniziative che orientano generazioni di giovani alla causa della reciproca comprensione e della condivisione dei valori. Sono parole che lei ha pronunciato qualche giorno fa all'Università di Porto. Sì, intanto possiamo esprimere soddisfazione perché c'è stata un'attenzione da parte del Governo rispetto ad una richiesta e soprattutto ad una esigenza manifestata dalla nostra Regione di assegnare un contributo straordinario per il trasporto pubblico regionale sia provinciale sia comunale sia su ferro che su gomma. Devo dire che questo consentirà alla nostra Regione non soltanto di garantire i servizi essenziali ai cittadini ma anche di poter corrispondere alla debitoria nei confronti delle società esercenti i servizi di trasporto regionale e dare così una boccata di ossigeno alle nostre aziende che molto spesso muoiono più per credito che per debito e dare una risposta ai lavoratori nel pagamento delle retribuzioni. Sì, devo dire che è stata una settimana molto faticosa perché abbiamo iniziato commissione bilancio da mercoledì, abbiamo fatto giorno e notte commissione però sono molto soddisfatta del lavoro e delle risposte che siamo riusciti a portare a casa come risultato. Questo è uno dei risultati portati a casa, in particolare questa assegnazione di 30 milioni di euro per la città di Matera, un emendamento che mi ha visto appunto prima firmataria, sottoscritto anche dai colleghi Vico e Covello e che destina queste risorse alla città di Matera che potrà mettere in campo un piano straordinario di manutenzione e insieme a questo anche interventi per il programma culturale. Rispetto alla manutenzione straordinaria in particolare, diciamo, oltre ad avere l'attenzione all'accessibilità, all'accoglienza dei visitatori e al sistema della mobilità, quindi anche alle aree parcheggi, ai servizi, cioè una grande attenzione al tema del decoro urbano e quindi tutto ciò che riguarda la pavimentazione stradale, i merci a piedi, le aiuole, il verde, i parchi. Insomma, credo che questo risultato importante e significativo ci consentirà di presentare la nostra città adeguatamente all'appuntamento che abbiamo di fronte e questo è anche il risultato che mi onoro di aver portato a casa in rappresentanza di una comunità attraverso naturalmente le rappresentanze politiche e istituzionali del territorio. Nei prossimi giorni ricorderemo con orgoglio il settantesimo anniversario dell'approvazione della Costituzione. La Costituzione rappresenta la vittoria della libertà e l'affermazione di diritti inviolabili. Continua a indicare il cammino che la Repubblica percorre al servizio dei suoi cittadini e della loro convivenza. Il mio augurio è che il prossimo anno recchi sviluppo, lavoro e solidarietà per rendere ancora migliore il nostro meraviglioso Paese. Il tempo delle elezioni costituisce un momento di confronto serrato, di competizione. Mi auguro che vengano avanzate proposte comprensibili e realistiche, capaci di suscitare fiducia, sviluppando un dibattito intenso, anche acceso ma rispettoso. È questa inoltre una strada per ridurre l'assenzionismo elettorale e disaffezione per la vita pubblica. Anche quest'anno sono stati assegnati riconoscimenti a numerose persone che, come tante altre, senza alcuna ricerca di notorietà e senza attendersi ricompense, si occupano di chi si trova in difficoltà e promuovono concretamente l'interesse comune. Desidero soffermarmi soprattutto sul nostro domani, al quale dobbiamo guardare per dare risposte alle preoccupazioni e alle attese dei nostri concittadini e per offrire prospettive reali alle giovani generazioni che vanno sottratte al rischio di un destino di marginalità. Progettare l'avvenire senza ignorare il presente ma senza farsene catturare è un dovere di tutti coloro che ricoprono incarichi pubblici, a ogni livello. Analoga responsabilità interpella le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le forze politiche, le forze sociali, il prezioso assetto pluralistico che ci assegna la nostra Costituzione suggerisce e richiede consapevolezza dell'interesse generale. La sua piena attuazione passa anche attraverso il doveroso concorso di ciascuno alla vita istituzionale e sociale della Repubblica. Questa diffusa e comune responsabilità repubblicana oggi impone il dovere di riflettere sul crinale storico in cui ci troviamo per definire un'idea del nostro Paese nel futuro. Viviamo in un mondo caratterizzato da sempre più elevati livelli di complessità e di interdipendenza. Gli Stati nazionali faticano ad affrontare quella che si è soliti definire globalizzazione, un insieme di processi economici, finanziari, tecnologici e trasnazionali che stuggono in larga misura al loro controllo. Per altro verso, lo sviluppo delle tecnologie e la loro diffusione interpellano i fondamenti culturali e persino valoriali. L'automazione e la robotica entrano sempre più nel mondo del lavoro, sollevando nuove sfide per l'intera organizzazione sociale. I progressi della medicina ci pongono di fronte a dilemmi radicali sulla vita. La velocità delle comunicazioni trascina e dà il ritmo al nostro tempo, aprendo questioni rilevanti di libertà, di autenticità. Compito precipuo di chi ha responsabilità pubbliche è oggi quello di elaborare linee di sviluppo sociale ed economico che rispondano a questi profondi mutamenti, se rendo conto, ancor più che nel passato, della richiesta di maggior qualità della vita, dell'esigenza di sicurezza, di equità, di sostenibilità ambientale. È indispensabile, in definitiva, riflettere e dotarsi di una visione sul sistema Paese, su come intendiamo svilupparlo. Questo deve essere il ruolo della politica, l'oggetto del confronto tra le varie parti. Vengono richiesti coraggio e lungimiranza, indicazioni di obiettivi e percorsi adeguatamente approfonditi. Di questo livello deve essere la risposta alla responsabilità repubblicana che ricade su tutti noi. Desidero ringraziare, a nome di tutto il Paese, le forze di polizia e gli apparati di sicurezza. Il loro concreto, rassicurante lavoro per la nostra tranquillità è decisivo, in una fase così impegnativa, su fronti che vanno dalla tutela della legalità, alla lotta alla criminalità, alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, una sfida rispetto alla quale occorre mantenere la massima vigilanza. Un impegno altrettanto rilevante affrontano le nostre forze armate, apprezzate nella loro capacità di interpretare i valori annunciati dall'articolo 11 della nostra Costituzione. Ad esse, impiegate nella difesa della legalità internazionale e della convivenza pacifica in tanti luoghi del mondo, a rischio di conflitti e di violenze, invio gli auguri ed esprimo la riconoscenza degli italiani. Ma guardi, francamente non ho le idee chiarissime, nel senso c'è una quarta gamba ma poi pare che ce ne sia anche una quinta o una sesta e quindi diciamo più che quarta gamba rischia di diventare un millapiedi. Aspettiamo a vedere di che cosa stiamo parlando e le saprò dire meglio qual è la posizione dei fratelli d'Italia. Sicuramente per noi valgono le regole d'ingaggio e le regole d'ingaggio devono essere rigidissime sul piano della coerenza. La proposta che io mi sento di fare agli alleati e che farò agli alleati è che i candidati di coalizione nei collegi uninominali che non appartengono a Forza Italia, a Fratelli d'Italia o alla Lega Nord, siano candidati nel caso in cui tutte e tre le forze politiche siano d'accordo. Questo può essere un modo per non fare in modo che aggregazioni che vengono fatte poi non trovino d'accordo la coalizione.